Il Parco della Valle dei Templi di Agrigento è il primo sito archeologico italiano e in assoluto il primo luogo culturale in Sicilia a dotarsi di un rapporto di sostenibilità che permette di comprendere quale impatto ottiene un sito sull'ambiente circostante in termini di ricaduta economica e per la prima volta in assoluto in Italia sociale e culturale ma soprattutto consente di programmare e indirizzare gli interventi del futuro. Il Parco che vede insieme sullo stesso piano pubblico e privato il Parco e che gestisce i servizi ha avviato un dialogo con il territorio un lavoro molto approfondito condotto da Coop Culture che cura i servizi della valle realizzato dagli esperti di struttura attraverso centinaia di interviste ai visitatori del sito archeologico. Un ulteriore passo avanti che consolida ulteriormente l'importanza del Parco della Valle dei Templi nel territorio che quest'anno sfiora un milione di visitatori raggiungendo così alcuni siti importanti italiani come la Venaria Reale e superando per esempio la Regia di Caserta. I numeri sono straordinari e permettono una radiografia a 360 gradi riferita al 2017 non solo del Parco e dei suoi visitatori ma di tutto l'indotto del territorio agrigentino. Il visitatore medio, italiano, giovane e spesso laureato ha un indice di gradimento molto alto 8,64 su un putteggio massimo di 10 e l'86% dichiara di voler ritornare per ulteriori visite che comprendano anche altri siti. Il Parco ha registrato entrate nel 2017 che superano i 5 milioni e mezzo di euro di cui 4 milioni e 600 mila euro solo dalla vendita dei biglietti in un contesto che invece registra una decrescita del turismo sul territorio agrigentino 1 milione e 292 mila presenze turistiche nel 2015 diventano 1 milione e 36 mila nel 2017. L'impatto di spesa è del 2,64% ovvero ogni euro speso ha una ricaduta di 2,64 euro. Il fatturato prodotto dai concessionari è stato di 2,580 mila euro a fronte di mezzo milione di investimenti e quasi un milione il valore delle forniture. Il Parco ha avviato nuovi cantieri di scavo e portato alla luce nel solo 2017 3.000 metri quadrati di siti preesistenti ad iniziare dal teatro ellenistico. I visitatori del Parco della Valle dei Tempri nel 2017 sono stati 857 mila più 31,6% rispetto al 2016 che aveva già registrato un più 15% rispetto all'anno precedente. Il 2015 sono stati potenziati i canali di informazione e relazione e proposte ben 454 giornate di eventi al pubblico.